Nell'interpretare il quotidiano La via della conoscenza attraverso Attilio M vocedellacuiete.vaianocchiocciola.gmail.com Soggetto Proverò a incalzarvi su questo terreno e non vi prometto niente di buono. Che cos'è la mente di fronte al quotidiano? È la vostra salvezza. E la mente chi salva rispetto al quotidiano? Salva voi, così come siete oggi, cioè prigionieri delle etichette. La mente vi salva, vi salva giorno dopo giorno e vi fa rivivere giorno dopo giorno le etichette e vi fa aderire giorno dopo giorno alle etichette e quindi vi salva. Vi salva dalla vostra dissoluzione, dal fatto di non esserci più, ma proprio più, più e più, o dal cominciare a distruggere i fondamenti della mente. Quindi la mente è ciò che conserva voi nel vostro quotidiano. Quindi la mente è ciò che costringe voi a stare dentro i confini che essa pone nell'interpretare il quotidiano. Quindi essa è quella che vi impedisce di guardare il quotidiano come sacralità. Quindi essa è ciò che sconfigge la sacralità del quotidiano. Quindi essa è ciò che denigra la sacralità del quotidiano. Quindi essa è ciò che vi ripende la sacralità del quotidiano. La sacralità del quotidiano esige che voi non ci siate perché soltanto se ponete in serio dubbio le etichette voi scoprite che il quotidiano è unità ed è unità di tutto ciò che alla mente appare diverso. Tutto è legittimo nel quotidiano visto come sacralità. Tutto è legittimo, tutto. L'offese è legittima? Sì, l'offese è legittima. Il vilipendio è legittimo? Sì, il vilipendio è legittimo. L'atto di gratitudine è legittimo? Sì, è legittimo. Tutto è legittimo se considerate il quotidiano nella sua sacralità. Ma non può esistere la sacralità laddove c'è la mente.